A me lupo va chiederva romane se ave nupere ave nupere romane me glane bugoria ave nupere ave nupere va chiederva romane se ave nupere ave nupere va chiederva romane se ave nupere s-o ghele o cenuja s-o ghele po mariben s-o sleandu sheffield gheane va chiederva romane se ave nupere s-o sas n-a gheanel c-i man miste s-unen dame te gheanel c-i man miste s-unen dame te gheanel c-i man miste man s-unen ave nupere ca in thailand luca si dunca dame te gheanel c-i man s-unen s-unen abone te gheanel c-i man s-unen gheanel c-i man s-unen gepre savore romane ave nupere se gheanel mai miste super s-o mis-te gheanel c-i man s-unen s-unen . gheanel mixte vaj radpangive sopeza cia cade sopeza cia Oder Sefield so mar desl … E non c'è roba, non c'è un po' di mani. La roba è che all'oncente il che fa sempre, Sto che le chiedono le scopri su questo. Perché le chiedono le scopri d'oriconi, Non c'è l'oriconi che non c'è l'occasione, ma non c'è l'occasione, ma non c'è il motore. E non ci conoscete a tenere, perché mi scopri un video, perché ho avuto una vicina. Come non ci spiega, non mi spiega, In chi ne rappresenta? O che lo sapevo giusto E se lo sopevo giusto In una cosa si trova giusto Ma cosa si trovo giusto In questa shit In un'altra cosa si trova giusto Nogli la cosa si trova giusto Un'altra cosa si trova giusto O johnson O johnson Non sapevo niente I ci sono un'ugica O johnson O A I ma mia moglie è venuto del suo subito di Roma. Ho visto la mia vita, perché aiuto questo non lo ho ricordo, non c'è la mia vita, secondo me, a anche il mio corso di Roma, e mio cibo di più in grado di Roma, mi dice il suo rumore, tutto il mio reto, mi dice questo che non lo scrivo, ma realizzai, ma anche il tuo cuore, Inoltre a buscarciDI'sculare Zo che vogliono ancora unaiano Abbiamo in nessuna religione Inoltre a 這 un lungsurizatore ha fatto inoltre a united. Cosa chaine però a far potatoes non è una casa della Roma ci aspettano che la Roma mi che tornerano Instant�� su 40 di senza e non lo ma Ma non ti capo, quando ti per lontano a pensare che non mi fanno su quel momento. Sei qui nascendo le mie computer. Non ti puoi tasserti come me, ma non mi fanno nessuno. Aspettate a pensare che non mi fanno nessuno che non mi fanno nessuno. Non mi fanno nessuno, sembra nessuno che non mi fanno nessuno. che faceva il pensiero di più. Voi essere stato a dire che sono fatto che sono stati fatto sch starsi. Non mi sono fatto a fare il caso di mio di Germano. Non sono state vedute, che sono stati stati creati. Ma loro sono stati ma anche striccoli di rimu, e il loro interessa è un tipo. Non ci sono di toccolo. C'è quello che si trova? Come ci sono senti a chi ha detto Gianni Ponsoli. La giù è invenza è una parte di sentimento. La comunità è stata A la prima volta sono proprio entrare là una volta. Non è un problema. E' quando non è quando ci fai salto dal coporio? È stata una via le palazzo. E quando sono persinati dal copoio, poi ho perduto se la copano! Ma comunque non è che sonate a fare dei giandici, è un po' che deve parlare che interna, in quanto a due mani non è in grado. Quando si trova tenato circa minuto, si trova i giusti in grado, se forse a terra. Ma non è un po' di più. Si non sono trovo il giorno, a gruppo cazine. Quando si dicevano tipo che cos'è dire. Quando si dicevano il palo. se direvano le palo con il palo. Nel' voi st sécurizzato il palo dopo che con il palo. Il palo non lo so si fa poi. Non sonoícios bambi con te, Bocca con Bocca! Cmenti! Tu non c'è un poccio! Se c'è ciao che c'è il corso E. Non c'è la culeboxa. Non c'è la c'è la c'è! Ness A. A C. Non c'è la c'è la c'è la c'è non ho comp發 il corso! Ma non ho comp phenomenono, che tenere, con la c'è 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 la con! Nei ragazzi anche che le c'è la c'è la c'è la c'è il corso E. Per il mio Andrè è un altro. Gesù il권ese non mi fosse congelo. A cosa stai attentando con i cossi a una gamba? A un gamba da Ruocci, se larona non prendo. Lasciù irò a loro a loro. Lasciù a loro a loro udererò! Lasciù a loro a loro a loro a loro a loro a loro. e' passato il mondo, vedi ripацano a angeli, questo non era cammino, ma poi è tornata a terra, poi c'è il ritorno. T'ammorata per la terra, gli altri farbano avere vissuto. Prima di aver anche dovuto i cavolo, anche ogniじゃあi i cavolo, anche il sotto dell'esistenza, io ho vissuto il rossino, non li ha. e vuoi essere così come. non sono i due. Romani c'azremi andiamo a curto a buzeranti da c'era. di che a pe leste, buzeranti quindi buzeranti, Romani, Rom and Chiodito, non sono stati, mi permesso d'aclessione, non è quello che a curto la giga, non sono stati lunghi il giallo, di pomoci. E quindi, ma nella Caterina. e ora èauratole da proprio un trabajando, viene solo di Roma. C'è stato detto che sia in punto dibras restaurants, ma viene arrivata in quanto ci si noisi. Si sono qui, io sono stati artisti. Ciao, io sono sbattiti a che sono un sacco di ragazza, ho messo qui a lo scopo che faccio da casa. C'è un sacco di valore, mi sono trovato slovacica, c'è un sacco. 3-4 scritti, ci siamo restri. Noi, non vediano roba per capire della volta. E voi solo sedite a non cittate a slovensanze a niente. E niente non farebbe. Niente. Non si schovevate. Za nás si schovevate. Non si schovevate. E noi si si sono ponižili. Nantate� contro DGLEV. E vi di te fare e volete loro pezzi. DGSE fanno portare e volete loro pezzi. Vevi come? Quindi è la righte. DGSE si ultimano per gli vita. Viene i giocare di diritto e scopo. Voi per la ciganza. DGSE fanno. e voi viate chiama, scrivere e mettere l'aria e prendete una mano. Prendiamo la vostra robota per la vostra robita e fatevi un paio. Non ne scriveremo nei commenti. Non lo vedi da niente. Non lo vedi da non lo vedi da raggio. Non lo vedi da raggio. Non lo vedi da raggio. Cosa, non lo so, non lo so, non lo so, perché c'è la sua vita, non lo so, no, non lo so, non lo so, perché no lo so, non lo so! Allora, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Allora ho peccato, tutti i nostri spettatori sono. Mi riscreiamo insieme per quel che mi racconto si è accontato, ma non sono tutto. Non si è messo a la parte, ma cosa che fanno? Non è un'altra cosa che non si prendo, ma non ne pensiamo. Non è quello che vuoi rispondere è questo, mi raccontano i nostri spettatori non fare, non sigriffono. Mi rispondono a fare i nostri spettatori, Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero. Non è vero, 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 non è vero. Non è vero. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. 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 per la loro eroina che ci va randonarsi da ci va a provare l'hotel che adattu me indargini, te drogi incerano, te fete incerano, ci ma randetù caiavri, te dio caiavri, te pesci sa iallas, ci ma randetù drogi ma per i sosteniamo siamo, parlo tifus siamo amen zame generazioni, amen lo pure cara amen lo pure cara, amen zame generazioni non è tu me e mi dicam che quando eri in chiede a degheci po giugio c'inghidrisle stava, po facebook e mi manca o c'ave mi forti in chiede a degheci o da angra tu che pena, che restos pre tu che hi tu dieghi deos, o cam si che a te cosela avrei o la commento o da me tu che pena, bo sarò c'avemi anche e mi chiede a te cosela avrei o commenti che eri in chiede a degheci ci do manca il quartiere l'angu, non ci va mando i tovar penam tu che pesce in teore pesce care, pesce in teore pesce in teore, quelle degheci e quella buzera ti che tu mare viebino scurvi me in commenti pesce in teore, nasce in chiede nel romenge, ando degheci a te nico degheci stane ma da un c'avei in mare fraiera i chiede a te cos'è pesce 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 i chiede a te inserci ma in galla si legge ustate le bomarde pare museli ma te lenigle le lagre le lagre, le lagre, le lagre, le lagre ma fia o colaglio, o calre, ben gavlio te la prima volta il nostro paio Ma non si può dire di andare al Reaggine, ma non si può dire di nessuno, non è così. E non lo so che ci sono nelle persone che imparano, ma non è tutta la morte. E' stato bravo una piaccia e si sono lì, lei spiega da売ere un paolo Alleluio! Io ti chiedi con l' developmento! Non puoi es simple! Non ami in commenti! Però noi V steam600 siMatolani? Si tu mangi Il mio generatore è un generatore, il mio generatore è un mio figlio, e il mio generatore è un generatore. con una grande l'algera, una festa di guida, la morte di giù. I'limenti di giù tu, io mi' mi' dico, dire che ci sono solo stare, e il loro. che vedi di giù del basso. Non c'è il mio. Non c'è la male della mia, c'è la chia marco. C'è la mia. La mia gente lì. Come sono arrivato la volta. Lo c'è Roma è arrivato, perché c'è una cosa. Non si perciò. Se ci siano come le ricm producto. Noi ho letto. Non sono arrivato la mia casa. È la terra di un campo. Sono bambi. Lo canto. Non c'è biote. Il gaso è il mondo. a me nasa amba bovki sartumente salba bocca colggea garu vtut a me nasa amba bovki e nasa ronta cornaeri na commenta ima cifca nica scando de ghesa de nico de ghesi vana sa sam de ghesa a de nico ec fede nane ec rada meni romano sa voren a naponi zinkeren cadde ima doza andremic o ciave adakere so maen de teker nadikena sa lezmane kucile savo re a chekindelen a coskeren telu la commenti pennaftumege coi rincherdi a cote commenti ca un da kodav video sa me kerdiu coskeren telu o commenti i pomagao ciave sarpi a vena je koin i kerdiu ona vkada no ti ka po zuzo cingiris kutovavade po zuzo cingiris sa o ai ti idilina in aionu a tu me nadik che no kocleba zeske peni mar je mangogage vici in keren te murderan ima nkamen a nadarav hea kekera v hea kele provoca in kera tu me nadik enzo me kera v a ca yek meromsom yek ma shkartumete me yek romsom so le gachavade sa nadarav lendara io ti mi chenez la ma che ta orive sa nadarav chote sa amcabduure dara io ti mi chenez ma mušilez kala tai vina lato hui kera a kodav tu di nsi rom a ne mušilez te tove la tai vina a kodav tu di nsi rom po kama na ei vina sa me čaktu redera me cuuri kuidomato pindro a ti čuri lezkinhecasa prez mahras me a ti čuri lepekleman kano pindro Ar te sono namuli A questo è un attuale Ai c'è il loro Ai c'è il loro Ai c'è il loro An abgeorgono Non hai chiesto Quattro Non ero Quattro Odessi A te ho questionati Armetto Cos'è l'estero C'è il loro Che è il loro Il loro Dovamo poi fare un'acea che non si fanno. Il suo suo figlio è ecco che non si saffero per la sua stagione. Non si saffero. Alla prima volta, non si saffero per la sua stagione, non si saffero per la sua stagione. Non si saffero per la sua stagione. Non si saffero, va dire che si va a rafferci il Facebook, E' un'altra cosa che non mi ha detto a che non mi ha detto di avere una persona che è un uberto, dice che il suo lavoro è da un uberto, non si spero di essere a un uberto, ma non mi ha detto che non mi ha detto che sono a un uberto, quindi a che si venisse il nostro lavoro, vedi 34 città, in questo modo mi ha detto che è un uberto, ma minuto sono maturitile non è meno che qualcuno non c'è meglio non c'è una infertazione ora mi sapete ma iniziava le cose che anche quando iniziavano si è netto i caminari quello ha fatto proprio quello ha fatto ma anche il cuore si avessi nel sangue non c'è stai scusato e la società quindi si uscita dentro delieno ma non sono uno ma non c'è parte ma non Гuglia è e tutto l'acqua è che mi piace allora fanno bene ma dire wakesi anche se c'è tutto un mondo che si scrisi a ciò che c'è l'acqua è come si scriso ma sono più bravo come è il spánschia Z Krallovskei. Ma cosa faccio? Ander Federmin ci ha ripetuto. Z Ludovic 16. Fes, mamma, c'era. T'è nato scelto, Anderè mi ha legato, che c'è una c'è una c'è una c'è una c'è. Anc'è una c'è una c'è una c'è un testo. Non c'è un testo, mi sono capitato con c'è una c'è un testo, mi sono quasi addendro, これ mi sono nervoso, mi sono plati e le faccio. Ma non c'è un testo, ma non ho capito, non ho capito, non ho capito. A non ho capito, si mi sono fatta una cahè, che non ho capito, Ascoltà come si venuto a casa, come vedi. Ascoltà come si vai tutto il tuo corpo? All'altro, tutti i giocati, anche non sono tutta la vicina. Ci sono venuto molto meglio. Davide io a te la rispia. Siamo a te la rispia, non è il problema. Ne devi andare sgunto a te la rispia. Non pensavo, non pensavo si avevo un male, non pensavo che non pensavo? Non pensavo mai, non pensavo, ma non pensavo. Non ce che non poteva andare pausa, nel quale mi prende a André Mìcia. No, no, ma che hanno ancora di nuovo. No, ma che non è ancora ancora. O cui mi aff俗ammo, non è più fatto che siamo più fassisti. SLOVENSKO PATRI SLOVENSKU ALLE NIE FASISSTOM A RASISSTOM SLOVENSKO PATRI I NAM ROMOM LEBO SME OBÇANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKE A MAME TRVALI POBYT OZI SLOVACIKO PUFIN HEAMARI NA CHALENGERI KAMPE LENGETE A CELANDER LENTE COSKER NAMENO ROMA MAŠKARPEZ TEPESCHA CHIPKERKERA PESKER PREACHE NALLE HAJMA HAtype TECHHayUM Eально CELANDER LQUEZ CU SON TO successes Evan LED 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 non si non ahi Non solo, non sono il sogno, non sono il sogno sinistro, ma non si chiuderemo. Ma non si chiuderemo, ma non si chiuderemo. Ma non si chiuderemo. C'è un sogno che si viene colore, il sogno che si viene colore, non si può essere colore, non si riuscite. Grazie a tutti. Grazie a tutti.